Una mafia più ricca di quella della droga ha un giro d'affari milionario sulle spalle delle donne, anche quelle che volevano abortire ma sono state costrette a portare avanti la gravidanza. È uno scenario da Handmaid's Tale di donne oggetto, quello disegnato da un'inchiesta sulle adozioni illegali in Armenia. Qualcuno come questa giovane ha parlato, ma gli sforzi rimbalzano su un muro di gomma. Siu Zannora, 35enne, 20 anni dopo il parto, ancora cerca sua figlia Stella. Partorì una bambina sana nell'Armenia Medical Center. Mi hanno imposto di abbandonarla, dicevano che aveva problemi di salute, mi hanno dato un foglio bianco e mi hanno fatto scrivere che rinunciavo a lei, racconta. Si teme che decine e decine di donne abbiano subito questo destino. Tra il 2016 e il 2018 sembra anche che donne che volevano abortire siano state forzate a portare avanti la gravidanza perché altri potessero vendere il bambino. Un campanello d'allarme sono state le adozioni all'estero, dopo che il Ministero del Lavoro armeno ha notato che in alcuni casi venivano preferite alle adozioni in patria, in barba alle convenzioni internazionali. L'avvocato di Siu Zannora afferma che la rete criminale era vasta e coinvolgeva funzionari e poliziotti di alto rango, nonché personale dei reparti di maternità e orfanotrofi. Questa mafia ha trasformato il paese in un incubatore per la produzione di bambini, dice. Aggiunge che per quello che ne sa nessuna donna ha avuto ancora giustizia e sembra che la penisola fosse una delle destinazioni per i piccoli. I servizi armeni a novembre hanno parlato di una rete criminale che ha aiutato i cittadini italiani ad adottare più di 30 bambini negli ultimi anni.